Sono Enrico Pezzaldi e sono un fotografo di matrimoni e di coppie. Sono basato nel nord Italia, vicino Como, ma il mio passato come assistente di volo mi ha dato e mi sta dando la possibilità di conoscere e fotografare coppie da tutto il mondo. La mia fotografia è basata sul colore. Questo perché nei molti viaggi fatti ho sempre visto che il colore era uno dei fili che legava la gente e dava quel senso di calore e felicità che credo debba sempre accompagnare i momenti più importanti della vita. La prima volta che ho deciso di creare il mio sito web è stato un incubo. Pensavo che bastasse un bel template e il gioco era fatto, ma mi sono accorto di aver dimenticato altre varianti, una tra tutte se non la più importante è l'hosting. Non avere un buon provider di hosting equivale a costruire una casa senza le fondamenta. Seth Grand in questo mi ha aiutato molto dandomi strumenti professionali e la velocità che mi serviva per poter rendere i miei contenuti visibili a tutti. La sua interfaccia semplice e intuitiva è un customer care che sa consigliarti a risolvere al volo ogni problema ha fatto sì che me ne innamorassi. Quando ho iniziato continuavo a rapportarmi a ciò che erano i successi delle altre persone che vedevo online. Non fate questo errore, i social vi mostrano ciò che non sempre è reale. Perseguiti i vostri sogni con costanza e duro lavoro e vedrete che raggiungerete ciò che sono i vostri obiettivi.